L'aggiunta del sindaco. Non è completamente tecnica come preannunciato qualche settimana fa, ma i partiti PD e Forza Italia non gli hanno esercitato alcun tipo di pressione circa la nuova composizione. La nuova squadra che dovrà tentare di completare una consigliatura a rischio al Comune di Formia, ma in salvo dopo lo storico ma contestato accordo con il gruppo di Forza Italia, è stata presentata dal sindaco di Formia, Sandro Bartolomeo, subito dopo il primo adempimento, l'approvazione del conto consuntivo. Bartolomeo è consapevole della delicatezza del momento e ammette che, nonostante l'ampiezza dei traguardi da raggiungere in poco meno di un anno, la maggioranza dovrà cotagnarsela in ogni Consiglio Comunale. Loro fanno una vera e propria scommessa, ma io li conosco, sono persone solide e soprattutto sono persone che hanno voglia di dare il loro contributo alla vita di questa città. Nel nuovo esecutivo tra i confermati il neo vice sindaco e assessore dell'urbanistica Maurizio Tallerini, Claudio Marciano alla sostenibilità urbana e Vincenzo Tredi al bilancio. Superstiti dopo i tagli degli assessori Giovanni D'Angio e Giovanni Costa. La prima novità tecnica è il 67enne ex dirigente scolastico dell'istituto a Berghiro, Angelo Celletti, Erasmo Coloruotolo, quale neoassessore al turismo e al commercio. Una bella sfida però da affrontare con serenità perché Formia ha delle caratteristiche particolari per il turismo e il commercio, ha delle risorse che vanno messe a frutto. Già dirigente della ripartizione tecnica Marco Fioravanti di 60 anni di Latina è il neoassessore ai lavori pubblici e manutenzione. Ho conosciuto Formia, ho conosciuto le persone di Formia che ritengo persone di grande qualità. Il comune di Formia possiede un asset amministrativo di primo livello. E spazio naturalmente alle donne. La professoressa universitaria Antonella Prenner che si occuperà di scuole di cultura e la pedagogista Stefania Valerio che ha avuto la delica ai servizi sociali. Ovviamente utilizzare le mie competenze acquisite in tanti anni di studio per valorizzare il più possibile il potenziale culturale che ha Formia. Un potenziale culturale che devo dire già funziona. Lavoro già in questo campo. Lavoro soprattutto per quelle che sono le fasce più debole e cerco di prevenire quelli che potrebbero essere poi i problemi soprattutto nel mondo giovanile.